Casini, posso chiedere una cosa che non c'entra con quello di cui stavamo parlando adesso? Perché oggi, come lei forse saprà... Sì, se non è imbarazzante me lo chiede. Lo chiedo anche a Vendola. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, no? E milioni di persone sono scese in piazza in tutto il mondo, hanno dato vita ai cosiddetti flash mob, danze improvvisate, eccetera, eccetera. Lei c'è andato? Casini? No, io sto facendo la campagna elettorale. Questo è un grande momento di sensibilizzazione internazionale e mondiale a cui mi sento vicino sotto il profilo morale. Francamente oggi ho fatto un'estenuante campagna elettorale da Milano a Bari, a Brindisi, a Lecce. E lei, Vendola? Io sono stato a ballare in piazza Duomo nel flash mob che ha coinvolto, credo, un miliardo di persone in tutto il pianeta. Una grande danza per affermare la vita come conoscenza degli altri, rispetto, curiosità, tolleranza. Il femminicidio è un tema che dobbiamo affrontare anche dal punto di vista della cultura, in un paese in cui il maschilismo impudicamente frequenta le istituzioni e nella ribalta della campagna elettorale. E lo faccio non solo nel nome delle donne, lo faccio per me, per il mio sentimento della decenza. Senta Casini, Sanremo sta dando molto spazio al tema delle unioni gay, no? E nessuno sembra scandalizzarsi. Dobbiamo aspettarci un'altra legislatura in cui questo tema sarà tabù? Senta, le dico sinceramente non ho sentito la domanda, ma non per finta. Ho sentito solo la parte finale. Che cosa ha detto, che cosa mi ha chiesto? Le volevo dire, siccome a Sanremo si sta dando molto spazio al tema delle unioni gay, e nessuno si scandalizza, le volevo chiedere se dobbiamo aspettarci un'altra legislatura in cui invece questo sarà il tema tabù. Guardi, le dico questo, qui ciascuno deve esprimere le proprie opinioni con grande libertà, ma anche con grande rispetto dell'affettività altrui. Io conosco decine e decine di persone che convivono, che sono dello stesso sesso, che sono amici carissimi, persone che vivono la loro sessualità, ma soprattutto la loro affettività, con grande libertà e serenità. Molti di questi non chiedono affatto che il matrimonio gay sia parificato all'istituto matrimoniale come noi lo abbiamo tradizionalmente concepito. Ma in Italia non stiamo ancora discutendo dei passi. Io sono contrario a questo, che poi ci siano dei diritti individuali e collettivi che le coppie dello stesso sesso conviventi di cui possono usufruire, ma per carità, questo è un fatto di civiltà, non è un fatto... Però credo che bisogna avere rispetto anche per chi la pensa come me. Ci sono milioni di persone che ritengono che il matrimonio sia tra un uomo e una donna e sono contrari, ad esempio, all'adozione da parte di una coppia dello stesso sesso di un bambino, perché ritengono che vada garantito e vada dato un privilegio al diritto ad un'affettività naturale di un papà e di una mamma di quel bambino rispetto al desiderio, anche legittimo, di avere un figlio. Direi che queste cose, gli anatemi, veramente non servono. La differenza tra me e Cassini è soltanto questa, che la mia opinione non priva Cassini dei suoi diritti. L'opinione di Cassini impedisce a me di esercitare pienamente i miei diritti. Io mi batto per la pienezza dei miei diritti e penso che Barack Obama ci abbia indicato l'eguaglianza dei diritti di cittadinanza come la nuova frontiera a cui questa generazione, questa classe dirigente, deve dedicare il proprio impegno.